ok allora dovremmo esserci spero vada tutto bene si vede bene ok quindi a un po' bello di youtube io sono indy e benvenuti qua in questo nuovo fantastico video oggi sono qui per annunciarvi alcune piccole cose un piccolo vlog di pochissimi minuti in cui vi annuncio che sto per andare via no non tolgo il canale come sempre non annuncio di uscire da youtube o roba del genere perché non lo farò non vi preoccupate allora giusto tanto che farò una piccola pausa per qualche mese perché parto per milano sto per andare per un mese o due adesso vediamo un pochettino tutto dipende da cosa succede verso milano mi trasferirò per un mese alla ricerca di lavoro perché youtube non paga molto cioè youtube non mi dà quei soldi per poter vivere diciamo non è un lavoro e lo uso tanto come hobby guadagno quei soldi sì ma non li guadagno tanti per poter stare attaccato a un computer e continuare a giocare eccetera quindi ho deciso di volermi per ora trasferire andare verso milano alla ricerca di fortuna qualche lavoro e roba del genere e se riesco a trovare qualche lavoro di restarsi a milano finché non ho esperienza e so di poter tornare qui perciò annuncio soltanto che i video gameplay non ci saranno per un bel po' quando sarò a milano avrò un computer ma non sarà il meglio del meglio quindi potrò usarlo per poter fare dei vlog o per poter fare altro ma non posso portarmi dietro questo super computer o il VR perché la stanza è troppo piccola quindi per questo mese qua non mi vedrete fare giochi tipo minecraft VR non mi vedrete fare giochi tipo Apex o molto altro e non mi vedrete fare live gameplay su twitch o su youtube per il fatto proprio perché non ho ancora il computer potente se dovessi trovare il lavoro verso milano proverò a portare questo computer fisso non il VR ma il computer fisso verso milano così che almeno riesca a fare qualche gameplay su qualche gioco abbastanza buono tipo come ho detto Apex o anche Cyberpunk appena uscirà però ahimè 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 bisogna aspettare un pochetto quindi tutto qui mi trasferisco a Milano non vedrete molti gameplay per un mese vedrete ben poco però però sono qui per anche annunciare un'altra piccola cosa se avete voglia voi potete fare parte del mio canale ebbene se venite nel mio discord potrete iniziare a fare una piccola cosa per me mentre io non ci sono c'è dei piccoli gameplay i gameplay saranno pubblicizzati quindi farete un video voi lo metterò sul mio canale e se piace vi farò farete anche altri video e non vi preoccupate che vi metterò sotto in descrizione e tutto quanto quindi pubblicità volontà per voi se avete un canale se avete voglia e o se volete allenarvi potete usufruire del mio canale facendo qualche gameplay ricordatevi non è niente tanto Fortnite o altro per il resto se vi interessa fare dei gameplay basta soltanto contattare me o uno dei miei moderatori sopra il mio discord lasciarmi il vostro video vedete un pochettino di o montarlo voi oppure vedremo di montarlo noi lo passate a me e se il video piace lo potremo pubblicare una volta a settimana sul mio canale quindi una volta a settimana avrete un po' di spazio sul mio canale se volete tutto qui quindi se volete partecipare basta solo entrare nel mio discord e pubblicare un video a me o a uno dello staff contattandomi in privato per il resto nient'altro ok quindi allora me ne scappo via me ne partirò verso Milano se qualcuno vorrà incontrarmi come ho detto può avere il mio contatto su discord magari un giorno si potrà incontrare e nient'altro speriamo che la fortuna sia con me speriamo di trovare qualche lavoretto se non trovo lavoretto tornerò a casa e continuerò a fare quello che faccio al solito un cazzo vabbè quindi dain di tutto ci vediamo alla prossima se questo video vi è piaciuto lasciato una bella zapata solo mi piace e noi vediamo da ritrovarci nella prossima volta laurea